Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, due chilometri di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. Ci sono poi code a tratti in direzione Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione Mare Code, l'uscita a Santa Croce. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Ina 11 per traffico intenso in direzione Firenze. Code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E code a tratti tra Pistoia e Firenze Ovest. Buon si Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!